giornata delle marche premiati campionissimi mancini tamberi e rosso marche nord più criticità ma meno personale allarme dei sindacati rapine aggressioni spaccio arresti a fano e pesaro galleria roma percorso complicato verso la riqualificazione buona serata a voi amiche e amici telespettatrici e telespettatori di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro spazio di informazione serale del canale 633 del digitale terrestre notiziario di venerdì 10 dicembre data che coincide con la giornata delle marche 2021 una ricorrenza annuale che quest'oggi si è tenuta nel borgo maceratese di castello e raimondo dove nell'occasione sono stati premiati anche i campionissimi dello sport marchigiano di quest'anno davvero di trionfi e tra questi il ct della nazionale di calcio roberto mancini campione d'europa ma anche gianmarco tamberi olimpico campione olimpico alle olimpiadi appunto di tochio e valentino rossi che ha chiuso la sua straordinaria carriera è stato il borgo maceratese di castello e raimondo ad ospitare questa mattina la diciassettesima giornata delle marche una giornata d'orgoglio ed appartenenza significativa per più ragioni perché l'evento è tornato in presenza dopo le restrizioni da pandemia perché la ripartenza è stata enfatizzata da una giornata tenutasi in una terra che porta le ferite del sisma e perché le marche gonfiano il petto dopo un 2021 vissuto da campioni le grandi vittorie sportive sono state infatti il filo conduttore di una giornata trascorsa alla presenza della campionessa iesina di scherma valentina vezzali ora sottosegretaria allo sport e che ha visto premiati niente meno che il ct della nazionale di calcio campione d'europa roberto mancini salito sul palco del lanciano forum per ricevere il picchio d'oro di un 2021 vissuto tra l'altro da testimonial della regione in collegamento anche valentino rossi premiato per la sua straordinaria carriera motociclistica che appena vissuto la bandiera scacchi per valentino ha ritirato il premio la mamma stefania accolta tra le altre dall'ex campionessa di scherma elisa di francisca applauditissimo un altro marchigiano d'oro come gianmarco tamberi che alle olimpiadi di tokyo ha fatto stropicciare gli occhi saltando in alto fino al metallo più prezioso mi fa mi fa molto piacere sono onorato di essere qui oggi insieme a due valentino per me è un grandissimo idolo quindi uno dei campioni più più grandi della storia italiana dello sport italiano e mancini che è stato il il primo vincitore di questa di questa italia vincente di questo 2021 quindi ha dato il via tante vittorie ha inanellato abbiamo inanellato una serie di vittorie che sono partite da lui ci ha consentito di sognare quindi essere premiato al loro fianco è un onore immenso in una regione che amo non l'ho mai nascosto ho sempre detto quanto quanto mi piace vivere nelle marche quanto mi piace il mio territorio il nostro cibo tutto quello che abbiamo quindi mi fa davvero piacere giornata di trionfi e di forte valenza simbolica identitaria rafforzata dalla presenza del presidente del senato maria elisabetta alberti casellati accolta dal governatore acquaroli che ha sottolineato l'impegno all'unità e alla responsabilità marchigiana in vista del 2022 è una giornata che celebra i grandi successi e anche la speranza di una ripartenza è un'iniezione di fiducia che dipende anche da tante variabili speriamo che come dimostrato nella primavera dello scorso anno la nostra comunità si sappia stringere nella lotta alla pandemia e sappia anche dare così le risposte necessarie per dare un futuro di fatto di concretezza di progettualità e anche di tanta tanta capacità che abbiamo sempre dimostrato sia a livello economico che a livello sociale e anche a livello insomma di competitività economica e cambiamo radicalmente argomento purtroppo oggi si registra un nuovo picco di contagi ben 633 il massimo rilevato in un solo giorno in questi ultimi nove mesi tantissimi tamponi effettuati quasi 7.000 ma percentuale di contagio sostenuta al 16 per cento 93 i casi rilevati in provincia di pesaro urbino per un'incidenza che risale a 184 casi settimanali ogni 100.000 abitanti oggi perlomeno i ricoveri restano stazionari a quota 143 di cui 32 in terapia intensiva due purtroppo i decessi un uomo di 87 anni di valle foglia e uno di 91 di osimo ed è una quarta ondata di pandemia di covi 19 che la prima linea dell'emergenza affronta con personale sanitario sempre più ridotto delle carenze che oggi sono state lamentate a gran voce dai sindacati degli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera Marche Nord noi sono momiesi che stiamo evidenziando un problema di scarsità di personale mancano infermieri e os su tutti tecnici di laboratorio tecnici di radiologia Marche Nord si trova ad affrontare la quarta ondata con meno dipendenti rispetto a un anno fa noi questo l'abbiamo gridato l'abbiamo urlato la direzione ha detto che le uniche soluzioni che sta mettendo in campo sono due avvisi a tempo determinato che comunque sono positive ma avranno gli effetti probabilmente dopo il periodo natalizio e quindi non avranno un effetto immediato i carichi di lavoro purtroppo stanno diventando insopportabili nella quarta ondata come sempre il punto di riferimento a livello regionale è l'azienda ospedaliera Marche Nord e punto di riferimento per quanto riguarda i ricoveri ma purtroppo a livello regionale non c'è supporto in quanto stiamo facendo cioè i lavoratori stanno continuando a supportare e assistere i pazienti anche nella bassa Marche senza avere nessuna risorsa umana in più per noi è incomprensibile che ci troviamo a dicembre a discutere di azioni che forse potranno produrre i loro effetti a gennaio febbraio quando la criticità maggiore sono già saranno già passate c'è anche il tema del personale sospeso che sanno perfettamente che è sospeso perché praticamente da settembre che manca sono altre 40 50 persone che vengono meno quindi come dicevano i colleghi siamo con un carico di lavoro superiore il 43 per cento delle pazienti covid della regione Marche ricoverati nelle strutture sanitarie della provincia e un numero di addetti ai lavori inferiori non è più sostenibile ma noi non ci arriviamo alle feste di Natale in queste condizioni ci sono dei reparti che non riescono a chiudere i turni la soluzione prospettata per l'ennesima volta è la riduzione di alcune attività di servizi all'utenza quindi c'è un problema per i lavoratori che non riescono a fare le ferie spesso del 2019 per i pazienti che non riescono ad accedere a tutte quelle prestazioni che non sono collegate al covid dopo due anni non si può ragionare allora ancora in termini emergenziali riducendo attività e comprimendo i diritti dei lavoratori sono finiti in carcere quattro giovanissimi che hanno partecipato al noto pestaggio con rapina avvenuta sette mesi fa alla Rocca Malatestiana di Fano reati che ebbero anche risvolti di emofobia nell'aggressione a uno dei ragazzi malmenato per avere le unghie smaltate vittime che poi furono anche rapinate ma ora dal tribunale arrivano le condanne a quattro minorenni che si aggiungono a tre appena maggiorenni già coinvolti nell'episodio altri arresti della polizia per due trentenni di pesro un noto esponente della tifoseria della vis è stato condannato a cinque anni di reclusione per lesioni aggravate per un fatto risalente a otto anni fa all'epoca si trattò di un'aggressione ad un avventore di un pub fanese che fu malmenato anche con vetri di bottiglia che procurarono la necessità di un intervento chirurgico maxillo facciale dopo diversi gradi di giudizio del processo il trentenne è stato ora incarcerato altro episodio per un altro trentenne di pesro che è stato arrestato con pena di quattro anni di reclusione dopo che nel 2020 fu trovato in possesso di quasi tre etti di eroina un'aggressione finita nel sangue si è palesata anche domenica nella centralissima galleria a roma delle centro appunto di pesero una galleria che al di là dell'episodio di cronaca è da tempo allo studio di una riqualificazione urbana che però appare molto complicata come ci spiega questo servizio rossini tv riaccende le telecamere su galleria roma a pochi giorni di distanza dalla aggressione con colluttazione e con accoltellamento che è avvenuto nello scorso weekend proprio in questo luogo del centro storico un luogo che è reputato all'abbandono da diverse persone che lavorano qui commercianti gente che frequenta gli uffici all'abbandono per due ragioni quella in termini di sicurezza c'è una problematica di bivacchi di situazioni poco lecite che continuano a gravitare attorno a questa zona c'è anche un problema strutturale di questo luogo del centro con una struttura vecchia malandata e sulla quale lo stesso comune di pesero aveva pensato da anni ad una riqualificazione tema che è tornato attuale negli ultimi mesi anche perché un arredo urbano meno degradato può anche essere un deterrente alle situazioni in termini di sicurezza riqualificazione di galleria roma che però è ancora lontana dal concretizzarsi per diverse difficoltà che ci vengono elencate dall'assessore all'operatività enzo belloni in questa intervista galleria roma un impegno che l'amministrazione si è presa e le complicazioni però non sono pochissime rispetto a quello che era l'idea progettuale nostra idea nostra progettuale era quella di realizzare un fondo una pavimentazione in linea con gli interventi che sono stati fatti nelle altre parti del centro via san francesco per capirci però dagli ultimi incontri che abbiamo avuto con i tecnici che hanno seguito il condominio i lavori del condominio l'analisi rispetto alla pavimentazione è un'analisi un pochino complessa nel senso che l'intercapedine che c'è diciamo tra la piazza e i garage sotto quindi la soletta si chiama ha uno spessore che deve essere valutato prima di caricarla in maniera eccessiva perché la pavimentazione ha un dislivello di 6 centimetri di inclinazione verso il centro della galleria quindi va fatta un'analisi strutturale seria e capire se una volta valutati i costi di una messa in sicurezza dei garage quindi della parte sotterranea rispetto alla pavimentazione della galleria ci consentirà di fare l'intervento che avevamo pensato oppure bisognerà progettare qualcosa di più simile più leggero a quella che è la la pavimentazione attuale stiamo aspettando un'analisi un pochino più dettagliata di quelli che saranno i costi di un eventuale intervento che dovremmo sviluppare con il bilancio 2022 il liceo mamiani di pesero da domani ospiterà la mostra 60 volti per 60 anni una raccolta di ritratti uno per ogni anno dal 1961 al 2020 della fondazione del movimento amnesty international mostra realizzata grazie alla collaborazione di gialluca costantini un artista da anni vicino all'associazione nella lotta contro gli abusi e tra l'altro disegnatore delle celebre in iconografie di patrick zacchi 60 anni per amnesty 75 invece per unicef che festeggia questo anniversario all'insegna dei valori dell'infanzia da domani 11 dicembre fino al 23 di dicembre i bambini potranno infatti cimentarsi a pesero nella sede unicef di via mazzolari 6 in alcuni piacevoli laboratori sulle problematiche di nutrizione istruzione salute e integrazione un modo per prendere consapevolezza di situazioni che affliggono ancora molti altri fanciulli del mondo un'esperienza che faranno assistiti dai volontari di unicef ed è partito con quattro comuni mentre ora ne aderiscono ben 16 parliamo degli itinerari della bellezza di conf commercio che continuano a crescere e a non smettere di pensare in grande in vista del 2022 come è stato testimoniato ieri dalla conf commercio di conf commercio dalla convention scusate di conf commercio che si è tenuta ieri a villa piccinetti di fano e che potrete vedere in uno speciale realizzato da rossin tv che vi trasmetteremo mercoledì 15 dicembre alle ore 20 e 10 intanto però vi forniamo un estratto con qualche spunto di riflessione del direttore di conf commercio marche nord amerigo varotti villa piccinetti di fano ha ospitato giovedì sera la convention dell'itinerario della bellezza il progetto di valorizzazione turistica ideato e curato da conf commercio marche nord che ha riunito tutti i protagonisti della rete di promozione in una grande occasione di bilancio confronto e sguardo alle prossime iniziative un lavoro interforza che il direttore americo varotti ha condiviso nell'occasione con gli assessori regionali francesco baldelli e mirco carloni l'assessore del comune di fano etienne lucarelli e 16 amministratori per altrettanti comuni facenti parte di un itinerario sempre più allargato negli ultimi anni già il 2021 è stato un anno veramente straordinario perché il progetto ha quattro anni di vita ma questo è stato un anno molto ma molto impegnativo tantissime iniziative sia a livello di rapporti relazioni con i comuni ma anche proprio di manifestazioni di promozione turistica e di comunicazione il 2022 si apre già con la novità dei tre comuni in più quindi cantiano a pecchio e san lorenzo in campo ma anche con un un elenco di progetti che abbiamo intenzione di realizzare e quindi è un anno che già si preannuncia molto difficile perché usciremo già a gennaio con l'itinerario del silenzio della fede che avevamo già preannunciato poi faremo il completamento dell'itinerario musicale poi faremo l'itinerario della riviera del san bartolo e della riviera di fano per valorizzare il turismo balneare poi invece approfitteremo di un avvenimento straordinario che capita prossimo anno i 600 anni della nascita di federico da montefeltro per realizzare una serie di iniziative che riguardano direttamente o indirettamente il personaggio e quindi una nuova edizione dell'itinerario delle rocche di francesco di giorgio martini questo architetto militare che federico chiamò alla corte per completare il palazzo ducale e fortificò il territorio e poi faremo un itinerario nuovo che è l'itinerario di giovanni santi padre di raffaello giovanni santi anche lui alla corte del duca ci dà la possibilità di mettere insieme tante località da fano a cagli dove giovanni santi ha realizzato tante opere tra l'altro a proposito dell'itinerario giovanni santi realizzeremo anche una mostra molto particolare con un unico quadro perché recentemente è stato ritrovato sotto una nella chiesa di san domenico la testa di san sebastiano solo la testa c'è e realizzata da giovanni santi tra l'altro molto bella e quindi questo giovanni santi ritrovato lo metteremo in mostra con una iniziativa ad hoc domani e domenica viene lanciata a novilara la prima edizione di christmas weekend natale solidale una novità nel panorama delle iniziative dicembrine che ci viene illustrata dall'organizzatore jacopo fiorani della associazione culturale la stele abbiamo sempre voluto richiamare il natale ma sotto un punto di vista solidale l'idea era quello appunto di coinvolgere tutti insomma le varie realtà vicino a noi perché ci siamo noi come l'associazione culturale la stele ma anche varie associazioni del quartiere soprattutto del quartiere tre in un'idea che appunto richiamasse la sensibilizzazione su tematiche importanti per noi infatti avremo il coinvolgimento di atleti paralimpici attraverso poi le figure di elisabetta ferri e beatrice terenzi le giornaliste sportive che hanno scritto un libro molto importante e avremo delle testimonianze appunto dei protagonisti di questo libro però l'ospite d'onore sarà simona cascio che è il capitano della nazionale di basket femminile sorde che sono neocampionesse d'europa per questa edizione 2021 quindi è un piacere avere lei direttamente da messina che verrà appunto a parlarci della sua esperienza l'idea di questo di questo evento christmas weekend è appunto la dimostrazione di come la volontà e la tenacia no può farci raggiungere dei traguardi inaspettati l'iniziativa inizia sabato 11 nel pomeriggio quindi già dalle tre e mezza è più dedicata ai bambini il sabato quindi avremo dei laboratori e delle letture con con i bambini e siamo all'interno di una tenso struttura riscaldata quindi per qualsiasi condizione meteo non preoccupatevi che vi accoglieremo volentieri e anche la domenica sarà sempre il pomeriggio quindi domenica 12 però è appunto avendo questi ospiti e molto importanti e avremo addirittura l'onore di avere valter magnifico che viene a premiare simona e invece con questo evento siamo riusciti a coinvolgere sia tutti i ristoratori del borgo perché nel weekend 11 12 si potrà mangiare nei tre ristoranti di novilara e contribuire appunto alla raccolta fondi perché tutta l'iniziativa è dedicata poi a uno sfondo benefico di raccolta di raccolta fondi che andranno appunto donato alla società coinvolte e concludiamo con lo sport acque davvero turbolente nell'alma juventus fano che già al suo terzo cambio d'allenatore dopo le sue prendenti dimissioni di cappellacci per motivi personali questo quanto meno quello che recita la nota societaria dell'alma per un fano che ha deciso di affidare alla squadra al 47enne barese raimondo catalano ex tecnico del fasano dal calcio al volley domani torna in campo la megabox valle foglia che a urbino alle 20 30 ospiterà la big una big del campionato come la savino del bene scandici domani gioca in anticipo anche la carpegna prosciutto basket pesero che sarà in trasferta a treviso sognando perché no la terza vittoria consecutiva una partita che ci viene illustrata da luca banchi in un estratto della consueta conferenza stampa pregara del tecnico della vl la squadra sta cercando di portare avanti il suo programma muovendo l'attenzione su una sfida così difficile così impegnativa e capire se carlos potrà essere in qualche modo di supporto per garantire a garantirci di avere maggiori possibilità in una in una partita dove sappiamo insomma i nostri avversari saranno capaci di crearci grandi difficoltà come è un po caratteristica nel loro stile il loro record di vittorie parla chiaramente non soltanto in italia ma anche in europa e soprattutto nelle partite casalinghe eh sono stati capaci di centrare una una striscia di vittorie eh considerevole non parliamo di problematica alle spalle oppure di futuro roseo che vediamo de concentriamoci sul quotidiano cerchiamo di dare valore al lavoro cerchiamo di dare valore allo sforzo di ognuno per cercare di trovare un adeguato rendimento per una squadra costretta a ribellarsi alle situazioni in un campionato così duro e così difficile che non dà spazio non dà tregua ad oggi ci riconosciamo semplicemente il merito di aver leggermente alzato l'asticella delle aspettative per quelle squadre che come noi dovranno lottare per rimanere in questo campionato forse sai eh si era parlato di pesaro come una squadra condannata a questa condizione e adesso questa è una condizione che abbraccia più squadre e come detto forse a squadre come noi e Varese che come noi è stata capace di vincere due partite consecutive nei turni precedenti va riconosciuto semplicemente il merito di aver alzato leggermente questa questa barra questa sticella niente di più e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci però vi diamo qualche appuntamento del weekend a cominciare dall'appuntamento fisso del venerdì sera quello con il Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine il telegiornale del territorio a cura di Andrea Sabatini e Edoardo Razzi che come sempre va in onda in prima edizione alle ore 20 prima replica alle 23 e 15 e poi le repliche che vedete in grafica dal sabato al martedì questa sera la prima serata è dedicata al concorso fotografico ideocalendario 2022 itinerari fotografici di ideostampa vedremo le foto vincitrici del che andranno sul calendario appunto del 2022 in questo format curato per l'occasione da Paolo Pagnini e poi naturalmente l'informazione di Rossini TV non finisce qui per questa settimana c'è un ultimo appuntamento quello fisso del sabato mattina con la rassegna stampa di buongiorno Rossini come ogni mattina in diretta alle 7 e 20 rassegna che lo vedete in grafica sarà condotta dal nostro Marco Cadedu vi ricordiamo anche la prima serata di domani sabato 11 dicembre andremo a scoprire Valle Foglia d'autunno la seconda mostra mercato di tartufo olio nuovo fungo e melograno che si è tenuta a Montecchio lo scorso weekend rivedremo questa iniziativa sui nostri schermi alle 21 e 30 e dunque tanti appuntamenti che vi invitiamo a seguire come sempre su Rossini TV sul canale 633 del digitale terrestre canale che ora vi propone le previsioni del tempo e a me non resta altro che salutarvi e augurarvi una buona serata e un buon weekend in compagnia dei programmi di Rossini TV